Signore e signore, vengano, vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica. Dieci lottatori e un solo vincitore. Affilate le note, la Top Ten sta per iniziare su CineFan 100.7. Ne rimarrà uno solo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Eccoci qua pronti con la Top Ten. Iniziamo con la numero 10, Irama con Ovunque Sarai. Ovunque Sarai, in ogni gesto io ti cercherò. Numero 9 per Accesa dei Cremonini con La Ragazza del Futuro. Ho negli occhi la ragazza del futuro, eri tu che volevi tornare indietro. Posizione numero 8 per Lorenzo Calumini-Giovanotti, La Primavera. Gianni Morandi lo troviamo alla settima posizione con Apri Tutte le Porte. Stai andando forte, Apri Tutte le Porte. Achille Lauro con Domenica per lui, numero 6. E' come fosse domenica, sì domani poi vedrò come no. Posizione numero 5 per Marco Mengoni, Madame, mi fiderò. Mi fiderò. Senza temere niente. Numero 4 per Dargen D'Amico con Dove si balla. Sul podio troviamo Elisa con Oh Forse Sei Tu, numero 3. Oh Forse Sei Tu. Posizione numero 2 per la rappresentante di lista con Ciao Ciao. Ed arriviamo alla prima posizione, sono loro, Mahmood e Blanco con Brividi. Sono loro, i numeri 1. Nudo con i brividi, a volte non sai esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei non vale un siero di perle.